salamu alaikum mi chiamo iassi shaheb sono un calligrafo esperto di arte islamica con grande piacere ho deciso di sostenere il progetto aisha nel suo progetto di raccolta fondi regalando ai benefattori una bella calligrafia col proprio nome in questo modo è anche un corso base di calligrafia araba individuale presso il mio studio grazie